Ciao ragazzi, veniamo eliminati dal Bologna agli ottavi di Coppa Italia, prima o poi doveva succedere. Non sempre si può vincere, bisogna saper perdere. C'era una vecchia canzoncina che faceva così. Una partita onestamente che non aggasarcela, ma senza neanche metterla a quinta, l'abbiamo stradominata. Poi adesso partiranno Leffel Lazio per il Bologna, il meraviglioso gioco è Bologna, Thiago Motta, Nuovo Guardiola. Cioè, chi ha visto la partita? Ha visto una partita dove il Bologna ha giocato come se fosse lo Spezia. Noi abbiamo avuto un possesso palla del 56% che è diminuito nel finale perché dopo che avevamo segnato nel primo tempo supplementare, e dopo due minuti gli abbiamo lasciato il pallino del gioco e ci siamo ritirati. Forse questo è stato il nostro errore, ma nonostante questo 56% di possesso palla, 21 tiri a 7, di cui 6 tiri a 2 in porta. Quindi 2 tiri in porta del Bologna, 2 gol. Almeno abbiamo avuto 4-5 occasioni clamorose, 12 corner a 1, di cui nell'unico calcio d'ango del Bologna c'è il gol. Quindi ragazzi, cosa dire, è anche la legge dei grandi numeri, se doveva arrivare una sconfitta preferisco che mi arrivi agli ottavi di Coppa Italia. È bello vincere la Coppa Italia, l'abbiamo vinta negli ultimi due anni, dà un gran gusto quando comincia ad arrivare al semifinale la finale, però se proprio devi rinunciare a qualcosa rinunci adesso, anche perché Lautaro credo abbia avuto un risentimento, qualcosa di muscolare c'era sull'inguine, quindi già mi lascia pensieroso. E poi cosa vuoi fare? Alla fine loro hanno messo due attaccanti freschi, Zizze che ha grandissima proprietà di palleggio e inventa calcio, e l'altro che sa correre. Loro hanno due attaccanti freschi, veloci, di gamba, tecnica, che vanno. Noi che cazzo abbiamo messo dentro? Cioè, Turam sì, va bene, ok, ma nel primo tempo chi ha giocato? In nulla cosmico. Io ve lo dico sempre, cazzo, siamo senza punta e completamente di riserva. Quello è infortunato, gioca solamente col Cile, il campeon. L'altro c'è sempre qualcosa, ma comunque sia, è mezzo passo più lento ogni anno. Per cui, dai, niente di che, non mi starò neanche a dilungare più di tanto, perché l'ora è tarda e c'è poco da dire, ragazzi. Il Bologna, evidentemente, vive un periodo di gran culo con noi, perché è anche la partita d'andata, meritavamo noi la vittoria, e sono riusciti a pareggiare. Sono periodi che vanno così, con certe squadre, adesso hanno il culo spanato contro di noi. L'importante è che gli infiliamo le polpette, magari a ritorno in campionato, che è quello l'obiettivo principale dell'anno, è lì che ci dobbiamo concentrare. Quindi, facciamo passare il leggero bruciore, che magari ci può essere per una sconfitta, alla quale ultimamente siamo poco abituati, e testa, concentrazione a Lecce, sperando che Lautaro non sia fatto niente. Questa partita, comunque, se i dirigenti l'hanno vista, altro che problema, terzino destro. Cioè, AAA, cercasi punta seria di riserva da mettere dietro Lautaro e Turam, ragazzi. Perché se a Lautaro o Turam gli viene il cagotto, scende il nostro potenziale offensivo immediatamente di un 20-30%, come a dire niente, e sono stato anche generoso nella percentuale. Quindi, va bene così, ragazzi, è andata questa. Bella raga, per me c'è solo l'Inter e pensiamo al campionato.